ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video si se mi vedete così perché sono praticamente raffreddata quindi diciamo che mi si è ingrossata la gola le tonzille quindi sto diciamo a riposo però nonostante tutto ho deciso lo stesso di fare un video in cui vi voglio parlare del bullismo verso gli insegnanti cioè l'altro giorno avevo fatto il bullismo verso gli studenti cioè i professori che erano bulli verso gli alunni raccontando anche le mie esperienze se non che non so se definire bullismo come avevo detto nell'altro video oppure no però fatto sta che sono cose secondo me molto gravi però non è da escludere che può succedere anche il contrario cioè che sono gli alunni bulli dei professori io ovviamente non sono un insegnante come sapete quindi non non ho mai subito di conseguenza bullismo verso cioè dei miei alunni proprio perché io non sono un insegnante quindi non ho alunni allora io però mi sono documentata e praticamente io non so da cosa nasce sinceramente il bullismo verso gli insegnanti perché posso immaginare cioè il fatto che i professori se la possono prendere con gli alunni posso anche immaginare che i bulli se la prendono cioè gli alunni che sono bulli se la prendono con altri alunni magari più deboli però non riesco a immaginare un alunno che se la possa prendere con un professore perché risolto il bullismo è fatto sempre diciamo per prendersela con i più deboli e di solito gli alunni tutti quanti dovrebbero aver paura degli insegnanti però non è sempre così perché ci sono parecchi casi in cui gli insegnanti vengono bullizzati non solo dai dagli alunni ma anche dai genitori degli alunni per esempio io ho sentito di un caso è successo l'anno scorso in cui un professore aveva interrogato un alunno ovviamente l'alunno è andato male e gli ha messo un brutto voto e quest'alunno in un certo senso è caricata di professore cioè li doveva mettere se il professore se la mette in ginocchio di fronte all'alunno e cose così e poi vabbè tutta la classe è intervenuta diciamo facendo atti di bullismo oltretutto registrando perché io non so cosa sia peggio se il bullo che fa atti di bullismo verso il professore oppure se la classe che fa i filmati e le pubblica perché cioè voglio dire risolto una persona che è vittima di bullismo gli altri dovrebbero intervenire dovrebbero difenderla non che si mettono a fare i video oppure stanno lì senza far niente oddio posso anche capire che uno abbia paura perché casomai uno di fronte a un bullo ha paura però non fare neanche i video perché se fai i video evidentemente dalla parte del bullo infatti poi quest'alunno pare che sia stato bocciato io non voglio dire che questi bulli siano maleducati perché non conoscendo l'educazione l'educazione che c'hanno dai genitori io non posso studiare cioè io come mamma parte il fatto che io non ho fidi però se io mettiamo fossi mamma io casomai i miei figli posso insegnare all'educazione posso insegnare che il bullismo proprio non va fatto che bisogna portare rispetto verso le persone che siamo tutti uguali non esiste quella persona che è meglio di te o peggio di te e soprattutto non bisogna prendersela con i più deboli però rimane sempre il fatto che poi ci sono ragazzi purtroppo complicati che prendono l'educazione dei genitori e la gettano cioè io infatti non condivido questa cosa che per esempio quando succede un fatto a scuola che un alunno si comporta male i genitori vengono convocati e i professori si scaliano contro i genitori che casomai spesse volte questi genitori sono innocenti cioè casomai cascano dalle nuvole perché non è colpa loro invece in altri casi è colpa loro per esempio io ho sentito di casi in cui il professore è stato aggredito proprio fisicamente perché casomai un alunno è stato bocciato cioè il figlio è stato bocciato quindi i genitori vanno a scuola io posso capire, posso capire se quest'alunno è stato bocciato ingiustamente perché anche quello può succedere però è raro perché ripeto un professore non si mette a rischio cioè non mette a rischio la sua carriera facendo delle ingiustizie cioè mi spiego, mi spiego è vero che ci possono essere diciamo dei professori che commettono ingiustizie però nessuno fa un'ingiustizia così grande da bocciare addirittura un alunno quando invece meritava di andare avanti anche perché se fa una cosa del genere viene subito cacciato quindi non lo so tutto può essere invece quando andavo a scuola io alle medie è successo che i bulli che se la prendevano con me infatti avevo fatto pure dei video su questo canale praticamente dopo, verso la fine dei tre anni di scuola media avevano diciamo fatto cioè avevano fatto bullismo anche verso gli insegnanti e dopo di allora i professori furbi hanno preso provvedimenti perché era vero che c'era bullismo però quando se la prendevano con me non era vero questo è soltanto una piccola parentesi perché ora non mi va di parlare di questo perché questo è un video contro diciamo il bullismo tra alunno e professore diciamo così invece alle scuole superiori un professore ci è venuto a raccontare che una volta un'alunna ha picchiato un professore però non di quella scuola era un'altra scuola e questo professore perché sa come sono i professori girano varie scuole quindi casomai si conoscono e tutto questa alunna aveva picchiato un professore poi puoi anche aver ragione perché casomai può scoppiare tipo un litigio perché è normale litigare però quando si passa le mani non è mai nulla di buono cioè nel senso che almeno che se il professore stesso non ti ha picchiato ne è vero sento la parola tu non alzi le mani perché se un conto se uno ti ha picchiato allora sì allora sì tu ti difendi e dici per legittima difesa l'ho picchiata anch'io però da come raccontava questo professore sembrava che in realtà in realtà il suo collega non è che l'avesse provocata questa ragazza casomai saranno successe cose non lo so normali litigi tipo che la ragazza è andata alla lavagna ha sbagliato e gli avrà messo 5 cos'è così secondo me da come l'hanno descritto è così bene ragazzi per oggi è tutto e ci rivediamo al prossimo video e ci rivediamo